Sarà un vero e proprio polo di studio e cultura che comprenderà le scuole primarie dell'infanzia, il teatro comunale e l'accademia musicale. È stata posata simbolicamente la prima pietra della nuova scuola primaria di Sandrano, il comune di Castelnuovo del Garda, un progetto che prevede la dismissione dell'attuale primaria Cagliari e la realizzazione di un nuovo edificio accanto alla scuola dell'infanzia e nelle vicinanze del teatro DIM. L'edificio, sviluppato su 12 aule, ha la finalità di mettere a disposizione degli alunni ambienti tematici per favorirne una crescita formativa e umana. Oggi partono quindi i lavori e nel 2026-2027, anno scolastico, la scuola dovrà essere pronta ad ospitare i nostri bambini. Quindi oggi costruiamo il futuro della nostra comunità e se si costruisce attorno ad una scuola il futuro sarà migliore. Abbiamo lavorato in collaborazione con l'Istituto Comprensivo perché la nostra scuola fosse a misura di bambino, a misura di ogni bambino, quindi con spazi inclusivi, con laboratori, quindi un qualcosa che renderà i bambini sempre più protagonisti, attivi della nostra comunità castelnovese. Nella nuova scuola ci saranno spazi per la biblioteca, l'archivio, l'infermeria, la sala per il personale scolastico, l'aula informatica, l'aula destinata al laboratorio, la vicepresidenza, la sala docenti, una sala ulteriore destinata al riposo del personale e un magazzino. La spesa per la realizzazione del nuovo istituto sarà di 5.350.000 euro, quattro in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.